Sarà un prato, grandi firme. Il direttore sportivo Leonardo Calisti sta costruendo una squadra piena di giocatori che intrigano e sulla carta capaci di fare la differenza. Il tecnico Giancarlo Favarin radumerà la formazione bianco-azzurra a lungo Bisenzio il 20 luglio per i primi test fisici. Dal 24 di luglio al 1 di agosto la squadra laniera svolgerà il ritiro estivo a Pieve di Pelago sull'Appennino Bolognese. Per quanto riguarda la composizione della squadra andiamo a scoprirla reparto per reparto. Cominciamo dai portieri. Il Prato la prossima stagione giocherà con il portiere in quota. Sul tacquino di Calistri ci sono i nomi di Nucci classe 2003 ex Ghiviborgo e Fantoni classe 2004 ex Empoli. In difesa due conferme il capitano Claudio Ciannamè e Lorenzo Angeli al quale si aggiungeranno Cecchi rientrato dal prestito al Poggi Bonsi e l'ex capitano dell'Aglianese ovvero top player per la categoria Francesco Colombini. A centro campo si riparte dalle conferme di Nicoli e Ba ai quali si dovrebbero aggiungere Bernardini classe 98 ex Cassino oltre a Trovado altro classe 98 ex Campo d'Arsego. Sondaggio anche per l'ex bianco-azzurro Spinosa ex Ravenna. In attacco il Prato sembra orientato a puntare sui giocatori di grande esperienza. È fatta per l'arrivo di Cristian Brega ex Aglianese, Reducironi in Fortuno, e di Diego Frugoli ex Aquila Montevarchi nell'ultima stagione in forza al Pots Donuts. Il Prato cerca anche Matteo Colombi, possente centravanti ex Campo d'Arsego. Sul lato delle cessioni da segnalare l'addio del talentuoso Lorenzo Boganini che ha scelto la Serie C firmando un triennale con l'Olbia. Insomma sarà un Prato grandi firme che almeno sulla carta parte per dare l'assalto al campionato di Serie D. Le prime ufficialità arriveranno dal primo di luglio in poi, ma distrette di mano e intese verbali ce ne sono già state tante. Il nuovo Prato, insomma, intriga davvero.